In Piemonte dal 17 gennaio per uscire dall'isolamento e dalla quarantena il tampone sarà gratuito. A deciderlo è la Regione con una delibera che sarà approvata in giunta e renderà gratuiti tutti i tamponi necessari per poter riprendere la normale vita sociale, inclusi quelli antigenici rapidi eseguiti nelle farmacie e nelle strutture private. Da oggi inoltre è via all'accesso diretto alla vaccinazione per le prime dosi degli over 80 e per tutte le dosi di coloro che rientrano nelle professioni con l'obbligo vaccinale personale sanitario, personale scolastico, universitario e forze dell'ordine. Accesso diretto anche per coloro che hanno il Green Pass in scadenza nelle 72 ore successive. Sempre oggi sono al via le preadesioni sul portale per le prime dosi degli under 50 per i quali il Governo ha previsto a partire dall'8 gennaio l'obbligatorietà del vaccino. Nonostante un numero di positivi più alto rispetto alle ondate precedenti si sta registrando un livello di ospedalizzazione notevolmente contenuto. Insieme al protocollo delle cure domiciliari e ai vaccini, affermano il Governatore Cirio e l'assessore Riccardi, gli anticorpi monoclonali forniscono al Piemonte un'arma in più contro il Covid-19 nella fase precoce. Si tratta di una cura da praticare in un ambulatorio specializzato o in ospedale, ma l'aspetto fondamentale rimane la corretta e tempestiva interazione tra il sistema di medicina territoriale e gli ospedali, una strategia che in Piemonte sta dando risultati incoraggianti e in cui abbiamo creduto fin dall'inizio.